Questo è un reparto per 45 malati a pieno regime che coprono tutte le aree della medicina interna, dalla medicina interna alla nefrologia, alla neurologia, all'oncologia e alla medicina d'urgenza. I malati covid qui non ci sono. E però i malati covid nelle scorse ondate quanto hanno condizionato anche il lavoro in questo reparto? Moltissimo perché praticamente questo reparto era totalmente diventato reparto covid e quindi erano 34 posti letto dedicati ai pazienti covid con maggiore o minore intensità di cura, anche pazienti attaccati al respiratore e ventilati con macchine o casco, macchine per la ventilazione non invasiva, tutto quello che l'assistenza al covid richiedeva. E tutti gli altri che invece adesso occupano le vostre stanze perché hanno altri bisogni di salute e che fine hanno fatto? Beh intanto erano stati occupati gli altri reparti dell'ospedale e parzialmente erano stati destinati a seconda della specialità ai pazienti che avevano maggiormente bisogno. Però il problema grosso e che ormai è noto ed è chiaro è che col covid c'è stata una notevole riduzione dei ricoveri e dell'assistenza ai pazienti non covid, problema che adesso stiamo cercando di recuperare. Guardiamo poi tutta la sua roba che la mandiamo qui in chirurgia, ok? In modo pieno a tutto il giorno. 4 milioni di screening, di esami che sono saltati, un milione di interventi programmati che sono slittati. È stata recuperata questa massa importante di risposta alla salute per il cittadino? Guardi, alcune stime parlano anche di cifre ancora più rilevanti e ancora maggiori. Sicuramente non è stato recuperato tutto questo numero, gran numero di prestazioni che non sono state realizzate. Lo stiamo facendo con le difficoltà adesso di riaprire le strutture ma di essere pronti a riaprire i reparti covid nel momento in cui dovesse essere necessario. Lavorare adesso su due binari paralleli per l'assistenza ai malati covid e ai malati non covid è l'esigenza di tutte le strutture ospedaliere. Si è ribaltata la situazione. L'emergenza covid è iniziata in Lombardia e nelle regioni del nord e il sud, le isole erano relativamente esenti. Adesso noi abbiamo criticità nella Sicilia, abbiamo criticità in Sardegna, in Calabria, in Puglia e quindi è un problema che riguarda regioni che storicamente forse dal punto di vista tecnologico assistenziale sono anche meno strutturate di quanto non accada nel nord. Purtroppo proprio per le malattie tumorali siamo arrivati adesso a vedere i pazienti già in fase più avanzata nel momento in cui li abbiamo visti ambulatoriamente. Da un punto di vista terapeutico. Da un punto di vista terapeutico che in qualche caso può esserci anche difficoltà a cominciare una terapia o a intervenire su un paziente la cui malattia è già andata avanti e magari è arrivata in una fase di difficoltà di cura o di non possibilità di cura. Si riduce quindi la speranza di guarigione. Si riduce la speranza di guarigione, la speranza di trattamento per molti pazienti. Temiamo che ci possa essere una ripresa dell'infezione così come è stato nell'autunno dello scorso anno esattamente dove tra l'altro partivamo da una situazione anche di un minor numero di infezioni perché venivamo da 3-4 mesi di lockdown e quindi era una situazione di protezione. Adesso siamo passati dalla chiusura totale al rischio calcolato che giustamente il Presidente Draghi ha messo in campo però questo ha significato che adesso partiamo da un numero maggiore di contagiati rispetto a un anno fa. La variante Delta che è ormai predominante anche nel nostro paese che raddoppia la possibilità di entrare in ospedale rispetto all'altro virus che circolava lo scorso anno. Sì, questo è il problema della variante Delta che poi anche in buona parte può bucare come si dice i vaccini quindi colpire anche persone vaccinate. L'aspetto molto positivo che noi abbiamo verificato è che il paziente contagiato nella gran parte dei casi se è vaccinato ha una malattia molto lieve o addirittura senza nessun sintomo si finisce in terapia intensiva in un numero molto minore di casi. I dati sono molto chiari, oltre il 90%, addirittura 95-96% dei pazienti ricoverati o intubati sono persone non vaccinate o soltanto con una dose di vaccino quindi nella fase ancora di preparazione alla vaccinazione completa.